Siamo ad Atri, stiamo mangiando, questa cos'è questa? Castrato, e quelli che sono, tu volevi il mugnaio, quelli sono i gnocchetti, scusi, passi di là se poi io non comincio a mangiare, quelli sono i gnocchi, questa qui, guarda che è questa, questa è la mugnaia, quelli sono i gnocchi, questa qui, al sugo di castrato, le cecappone, scusa tu, no, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui. Guarda qui, 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 guarda qui Grazie Buon appetito Ragazzi buon appetito Questa è ragione Oh finalmente si mangia qualcosa Viva Abruzzo Chi ha detto che in Abruzzo si sta male Ste cattive lingue Ce le mando un uomo E abbiamo gli amici della Valsellina Che sono bigotipi Ragazzi serviti da sola Pensavano che noi ci moriamo di fame Grazie Ah c'è pure l'inzalata ragazzi Ok Ottimo